Continuano ad aumentare i casi di contagio nel Vesuviano, 23 ulteriori casi di positività registrati ieri a Torre del Greco, con 4 cittadini guariti, bilancio che si aggrava con un nuovo decesso, un anziano di 88 anni, ed un positivo i cui sintomi si sono aggravati al punto da passare dall'isolamento domiciliare al regime ospedaliero. Sono quindi 365 i tuttora positivi nella città del Corallo, di cui 9 ospedalizzati. Risultati negativi tutti i tamponi effettuati sul sindaco Giovanni Palomba, tutto l'esecutivo e tutti i dirigenti comunali dopo la positività di un assessore. Tutti potranno quindi uscire dal regime di quarantena. 12 nuovi positivi anche a Del Colano, con 7 cittadini guariti. Arrivano a 479 i positivi attuali. Il sindaco Bonaiuto ieri ha chiesto alla Polizia Municipale maggiori controlli nel centro cittadino e nell'area di Pugliano, in modo da far rispettare rigorosamente l'enorme anticontaggio. Si aggrava anche la situazione di Torre Annunziata. In 5 giorni sono stati riscontrati ben 88 nuovi positivi, compensati in parte da 50 guarigioni. Un bilancio che resta più basso rispetto agli altri comuni del Vesuviano, con 174 tuttora positivi, di cui solo due ricoverati presso il Covid Hospital di Bosco Trecase. Anche il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, ieri ha fatto il punto sulla situazione epidemiologica nel suo comune. In base ai dati, aggiornati al 1 novembre, le persone attualmente positive sono 431, di cui 4 ospedalizzate. Il primo cittadino ha smentito le numerose fake news che annunciavano una futura zona rossa su Portici, diretta su Facebook del sindaco di San Giorgio Zinno, per fare il punto della situazione. In poche settimane siamo arrivati a 547 positivi, annuncia. In una sola settimana sono stati rilevati 212 contagi. Quasi tutti sono asintomatici, solo 7, infatti, sono in regime ospedaliero. Nuovo boom di contagi, invece, a Castellammare e Istabbia. In sole 24 ore sono stati riscontrati 108 nuovi positivi, fra questi anche un bimbo di soli 20 giorni. Sono 764 i contagiati attuali. Il sindaco Gaetano Cimmino ha anche espresso il suo cordoglio per la morte di due cittadini positivi. Si tratta dell'ingegnere Peppe Bruno, stroncato al virus Salmonaldi, e del dottor Francesco Chirchia, contagiato nell'esercizio del suo lavoro di medico e dipendente ASL.